Capo d'anno con Van Gogh, 1500 visitatori tra le 8 di sera del 31 dicembre e le 2 del mattino del 1 gennaio. A cavallo della mezzanotte tantissimi vicentini hanno scelto di essere proprio lì, nella Basilica Palladiana, con lo stupore che solo la luce dell'arte sa dare. La verità si racconta in numeri, 4.744 persone hanno voluto trascorrere il 31 dicembre assaporando le emozioni di Vincent tra il grano e il cielo. Il 2017 si è chiuso così, con un primato in una settimana da record. Dal 26 dicembre al 7 gennaio il Van Gogh di Vicenza ha richiamato 47.727 persone. Una media di più di 3.600 al giorno, che ha collocato la mostra della Basilica Palladiana al primo posto in Italia, superando persino le kermesse di centri culturali come Venezia, Firenze, Roma e Milano. Un progetto sicuramente che sta piacendo molto, che è fondamentalmente legato alla vita di Vincent van Gogh. Un progetto che genera anche tantissima emozione, anche grande commozione tante volte, sia nelle opere viste in mostra, ma anche nel film che si vede alla fine nella sala cinema. Quindi devo dire che sono particolarmente felice di tutto questo. Marco Goldin ha gli occhi che brillano. Lui, l'ideatore, il curatore, il padre di questa mostra, è orgoglioso della sua creatura. Quella che ha creato è una macchina perfetta, capace di macinare i 205.000 visitatori in 92 giorni di apertura. E oggi siamo esattamente a metà percorso. La mostra resterà aperta altri 92 giorni, continuando a portare a Vicenza centinaia di migliaia di ospiti. Insomma, un modello da salvaguardare, da studiare, da replicare. La città del Palladio ha bisogno di turismo, deve e vuole rilanciarsi. Sono i cittadini, i negozianti, sono i ristoratori e gli albergatori a chiederlo. Il prossimo sindaco prenda appunti e sviluppi questo progetto. Marco Goldin dà già oggi la sua disponibilità a continuare con le sue mostre da record. Numeri incredibili ottenuti paradossalmente con Van Gogh, l'artista che meno di tutti guardava i numeri. Non so se si concentrerebbe sui numeri, visto che ha venduto soltanto un quadro, purtroppo, in tutta la sua vita. Credo sarebbe molto contento del fatto di essere stato, per così dire, preso dalla parte dell'anima. Penso che questa sia una cosa che lo renderebbe particolarmente felice. Grazie. 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 Grazie.